Che coincidenza! Esattamente un'ora fa stavamo parlando della stessa cosa. Località balneare, ricca di bellezze naturali e attività ricreative. Mi sa chi ha fatto un casino. Offresi su Italia 1. Con Alessia Merz, Panarea, alle 20.45 domani sera. Ragazzi, è bellissimo! Dovunque sei, con chi vuoi, c'è sempre tempo per fuori orario. Piccole morbide bontà, ripiene di crema golosa. E in più da oggi, quattro sacchetti nelle nuove maxiconfezioni di fuori orario mulino bianco. In certi momenti ti accorgi che manca qualcosa. Ma e qualunque cosa cerchi su internet, Laikos la trova. Proprio ciò che ti serve in quel momento. Laikos, la tua guida personale su internet. Magnum Double Chocolate. Laikos, la vita è fatta di priorità. Da Alcide. Eh sì, vaporigge di Ariete e pulisce con la forza del vapore. Potente e continua anche negli angoli più difficili. Ariete, il genio della casa. Buongiorno 187, sono Alcide. Alcide, sto organizzando un triangolare con due amici. Chiamo il primo al campo alle cinque, poi sento l'altro. Prima delle otto proprio no. Come ci mettiamo d'accordo evitando tutti questi rimpalli? Con Telecom Italia c'è il servizio Conversazione 3 che le consente di parlare contemporaneamente con due interlocutori diversi. Ottimo servizio. Fate anche la voler? Conversazione a 3 di Telecom Italia. Richiedilo al 187. Un numero fatto di persone. Un numero fatto di persone. Dall'esperienza di antica erboristeria il nuovo dentifricio azione purificante agli estratti di eucalipto e menta con un'azione antibatterica per un'intensa freschezza balsanica e una bocca sana. Antica erboristeria. Il naturale è sano. Virgilio, il bello di internet. Un nuovo, fresco detergente intimo. In questa scrittura si impara trusillaba. Un crocefisso anticipo. Riflettono moltissimo. Mi sta venendo un cerchio alla testa. Strano ma vero. La forza del pensiero. Giovedì alle 20.40 su Italia 1. Si capisce che pensi.